tutti buongiorno in particolare a massimo mercati allora questa è la prima di una serie di dialoghi che il Complexity Institute organizza o ha deciso di svolgere che riguarda l'incontro con rappresentanti, managers, CEO, imprenditori che svolgono attività benefit in particolare che hanno deciso e scelto di essere società benefit secondo la normativa vigente in Italia del 2015. Qual è la finalità di questi dialoghi? La finalità di questi dialoghi è di chiacchierare, di farsi una chiacchierata di una ventina di minuti, una mezz'oretta con queste persone per comprendere, io direi, le specificità, le particolarità di essere una società benefit cioè che cosa significa essere una società benefit sotto il profilo organizzativo, sotto il profilo dei processi produttivi e di gestione, questo è molto importante dei processi, e sotto il profilo manageriale, quindi dei processi decisionali. Abbiamo deciso di incominciare questa serie di incontri con Massimo Mercati. Massimo Mercati, e qui faccio anche un po' di pubblicità al libro di Massimo, perché riprendo la presentazione di Massimo dal suo libro che si chiama L'impresa come sistema vivente, ed è un'edizione aboca. Massimo è nato a Città di Castello nel 1971, giovanissimo, mannaggia, e dopo essersi laureato in giurisprudenza si è dedicato alla gestione dell'azienda di famiglia, aboca, della quale è ora amministratore delegato, ha fondato la rete delle farmacie Apoteca Natura, ed è presidente delle farmacie comunali di Firenze. Vive a Sansepolcro, Arezzo. Buongiorno a tutti intanto, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te Massimo. Allora, non parleremo, diciamo, tanto del libro, perché non è una presentazione del libro, ma è un dialogo con Massimo. Io partirei però da un tema che mi ha colpito nel libro. Io, come molti di voi sanno, mi occupo di organizzazione e di management da parecchi anni, insegnano università, come dire, ho letto molti libri universitari nel quale si parla di valore. Allora, una cosa che mi ha colpito molto, e questa è la prima domanda, Massimo, la prima domanda è questa, diciamo partire da questo tema per dialogare. Quello che ho sentito nel testo è quella che ho definito una supremazia del valore. E ti devo dire, Massimo, che mi sono un po' dibattuto fra usare il termine supremazia e il termine egemonia e la creazione di valore. Ma per tutti quelli che ci seguiranno, che vedranno questo video, mi aiuti per loro e per noi anche a capire cosa intendi tu per valore, perché non forse è lo stesso concetto che viene inteso tradizionalmente nei libri di economia aziendale o di organizzazione. Beh, diciamo che è grazie intanto della domanda e dello spazio di riflessione, perché quando cerchiamo di collegarlo anche al mondo delle società benefit, in realtà poi queste sono domande fondamentali. Una società benefit, proprio del porsi di fronte al tema del valore, lo affronta in una maniera più allargata di quello che è scritto nei nostri manuali di economia. Cerca di andare oltre dei puri indici quantitativi, allargando un concetto di valore che abbraccia non soltanto il conto economico in quanto tale, ma anche gli impatti sulla società, sui lavoratori, sull'ambiente. Ora, questo ragionamento quindi può essere svolto a vari livelli, cioè ho una logica di una diversa contabilità del valore, sulla quale credo tutti quanti da anni ci stiamo interrogando, andare oltre il PIL, trovare nuovi indicatori. Ma a mio avviso c'è qualcosa di più profondo, che proprio la società benefit di per sé esprime, e che è uno dei punti chiavi da cui partire poi, nell'andare a comprendere anche i modelli organizzativi, che cioè al di là della contabilità del valore, è la comprensione profonda del perché esiste un'impresa, e quindi il tornare a ricondurre la ragione per la quale, se vuoi anche giuridicamente, l'ordinamento ammette personalità giuridica a fronte di una funzione economico-sociale. E quindi si rientra ad approfondire, e vediamo che nel percorso degli ultimi 200 anni, questa funzione economico-sociale si è andata sempre più rarifacendoci, fino a che il nostro codice civile la identifica con il profitto, quando in realtà funzione economico-sociale significa e può significare qualcosa di più. Il profitto si inverte come prospettiva, diventa il premio all'aver svolto quella determinata funzione economico-sociale, nella quale c'è la creazione di valore per cui l'ordinamento ti riconosce la possibilità di operare come soggetto economico a responsabilità limitata. Ecco, quindi al di là della contabilità del valore diversa, è proprio tornare alle radici e le società benefit, nel momento in cui cambiano il loro statuto, mettono al centro questa nuova esigenza, che poi si ricollega nel caso nostro alle tradizioni dell'economia civile, a un mondo che poi ci riporta ad una generazione di valore che è frutto della relazione. E per questo è una nozione di valore strettamente connessa ai temi che stanno a cuore anche al Complexity Institute, a tutto il grande lavoro svolto in questi anni che ci riporta alla logica della visione a rete. Massimo, scusami, grazie. Ti devo acchiappare a volo perché dici un sacco di cose che mi danno un sacco di spunti, ma un'altra cosa che mi piace molto e che mi è piaciuta molto è questo fatto che tu spesso parli di inversione. Cioè fai più di un'inversione sempre. A me ha colpito molto quella del biologico, che credo che ti interessi molto, ma credo che secondo me dovrebbe essere una sorta di faro per chi lavora in questo mondo. Perché seguire quell'inversione di cui ti chiedo adesso significa proprio invertire il proprio paradigma di pensiero. Mi ti chiedo, ho capito bene che tutte queste inversioni che fai sono inversioni paradigmatiche, cioè relative proprio al modo di interpretare il mondo? E perché questa del biologico? Me ne puoi parlare perché è molto a che fare con Abboca, credo, no? Sì, con Abboca, con la nostra esperienza. Fa piacere che hai colto uno dei punti che io in realtà sento più forte. Cioè a me sembra di vivere in un mondo capovolto e non credo che si possa trovare una soluzione semplicemente in una pratica diversa. Cioè abbiamo bisogno di tornare alle radici e utilizzare, ridare un senso diverso alle parole. Non so, ma per me è sempre stato questo essenziale perché in assenza di un capovolgimento dei confini di senso non riusciamo a trovare soluzioni. Il tema del biologico lo dico in due parole perché può essere esemplificativo. Noi viviamo in un mondo nel quale per non mettere nulla nei terreni, per non fare, per non inquinare, ti devi certificare. Quindi per poter dire io non ho utilizzato sostanze chimiche nel mio terreno mi devo certificare. E per certificarmi se ho vicino dei confinanti che fanno agricoltura convenzionale al fine di garantire che le mie produzioni possono essere biologiche io devo arretrare di 100 metri le mie coltivazioni per evitare il rischio di contaminazione da parte di chi utilizza sostanze chimiche. Ora, quale sia il senso di tutto questo sfugge, nel senso che dovrebbe essere esattamente l'opposto. Cioè la base dovrebbe essere che si coltiva in un regime biologico e chi vuole immettere sostanze potenzialmente rischiose per i capaci di contaminare l'ambiente rischiose per la salute si dovrebbe certificare. Però in realtà questa logica poi determina altresì una dinamica dei prezzi che pone e ti fa vedere che il biologico è caro perché non incorpora minimamente le esternalità negative nell'agricoltura convenzionale e quelle positive nel biologico. E quindi di nuovo anche da questo punto di vista appare conveniente un cibo che in realtà non ha dentro tutte le determinanti del valore. Quindi però il problema parte all'origine. E questa inversione di cui parli io la richiamo ancora più in generale quando parlo e a me sembra di vivere in una sorta di naturalismo economico cioè noi diamo per scontato il nostro sistema socio-economico sembra immutabile se tu parli anche con i ragazzi adesso qualcosa con i Fridays for Future però è molto lontano per loro il mondo del lavoro è questo non c'è il problema di cambiare il sistema ma di... perché viene visto come immutabile pensa anche... cioè sembra che noi dobbiamo adattare la natura al nostro sistema socio-economico ed è anche questo un assurdo perché il sistema socio-economico l'abbiamo fatto noi è artificiale lo possiamo cambiare appunto tornando sulle parole mentre ciò che non possiamo cambiare è la natura non so se condividi ma sono inversioni necessarie e anche secondo me diciamo che aprono a uno spazio di speranza perché se noi prendiamo consapevolezza della nostra capacità e responsabilità possiamo andare a cambiare questi presupposti certo non è semplice però oggi dietro la spinta anche di un'economia che non funziona più di una società sempre più diseguale delle crisi climatiche ambientali abbiamo questa sentiamo una nuova necessità ecco io penso che la strada ci sia ma per affrontarla bisogna essere capaci di ribaltare i paradigmi in cui siamo così costretti obbligati come dire se vuoi tornare alla benefit no? ancor più a monte l'uomo si pone di fronte al pianeta in una logica che è quella della divisione c'è un X di risorse e da sempre il problema è nella visione di Hobbes e più avanti come ci dividiamo queste risorse ma se divisione non potrà che essere conflitto esaurimento mentre la visione diversa che è poi quella propria dei sistemi complessi e non autogenerativi è quella di mettere in relazione risorse per generare più valore quindi quando si parla di aziende generative questa dovrebbe essere la benefit in realtà ci si pone di fronte a delle risorse con l'idea non di dividersene ma di moltiplicarle ed è un messaggio se vuoi che ricorre dalla tradizione della religione cattolica realmente e che presuppone in realtà che l'uomo possa essere un generatore non solo un estrattore di risorse è impossibile che tu non intervenga in questo pezzetto di dialogo con Massimo perché so che questa roba ti affascina molto vuoi ci qualcosa o sì sì intervengo con piacere grazie beh Massimo hai detto tante di quelle cose che ci vorrebbe non lo so qualche ora per approfondirle sono veramente sono veramente il fulcro del pensiero non solo del pensiero complesso ma anche del nuovo paradigma appunto socio-economico insomma in cui l'approccio della complessità è certamente utile proprio come modalità di pensiero perché anche in realtà l'approccio complesso comporta un ribaltamento del paradigma proprio quindi dalla centralità della persona e quindi magari in questo caso facendo una strazione alla centralità degli interessi della singola azienda alla centralità invece delle relazioni e quindi della potenzialità generatrice che viene da mettere in relazione le persone le aziende le risorse e così via allora io ti chiedo invece una cosa diciamo specifica per quello che riguarda la tua esperienza la vostra esperienza come azienda da tanti anni collaboriamo con voi abbiamo avuto diversi punti di contatto e quindi ci conosciamo già da tempo e so che nella vostra azienda l'applicazione dei principi della complessità diciamo è stato è stato uno dei dei cardini nella vostra nella vostra non solo nell'aspetto valoriale ma anche proprio nell'aspetto concreto organizzativo quindi non solo di pensiero ma anche di pratica e allora volevo chiederti come l'applicazione dei principi complessi vi ha aiutato se vi ha aiutato a fare anche questo passaggio verso il diventare una società benefit quindi diciamo più in generale a diventare in maniera esplicita lo facevate già implicitamente ma adesso in modo esplicito a porre al centro il bene comune quindi il profitto è uno strumento per diciamo invece declinarsi per un beneficio che non sia solo economico e aziendale ma sia invece di tipo sociale quindi la visione proprio delle benefit in questo come vi ha aiutato se vi ha aiutato ad avere un approccio di complessità diciamo che come tu sai per noi diciamo nel momento in cui tu riesci poi a rendere esplicite cose che hai già all'interno perché Aboka ha da sempre avuto a che fare con la complessità prima di tutto per il lavoro che facciamo che è quello di lavorare su sistemi naturali non accettando la scorciatoia della molecola di sintesi scorciatoia intendetemi non voglio da un punto di vista proprio sia pratico che operativo il mondo diciamo così della salute il mondo tende a orientarsi sulla purificazione di singole molecole la creazione per sintesi perché sono più gestibili del caos che c'è all'interno di un fitocomplesso che è sempre stato invece l'oggetto del nostro lavoro per riuscire a capire come questo sistema naturale possa dialogare con il sistema naturale dell'organismo e quindi oggi si parla di system medicine system biology cioè quello che una volta era dentro a bocca già un qualcosa che però non riusciva a prendere forma oggi grazie all'evoluzione della complessità in ambito scientifico e in medicina sta diventando una nuova frontiera ok quindi partiamo da lì altrimenti non si comprende il perché di questa nostra così comprensione profonda e applicazione quotidiana delle regole della complessità prima di tutto a livello scientifico perché questo è il nostro obiettivo il traslare poi questi contenuti all'interno dell'organizzazione è venuto anche nel tempo come anche una modalità che io stesso ho ritenuto più efficace più vicino al mio modo di fare di fare impresa perché conoscendo e vedendo proprio nell'organizzazione un sistema sociale dinamico e volendolo volendo portare avanti un'impresa che fosse in grado di io dico spesso cambiare per non cambiare cioè mantenere la sua identità culturale ma nello stesso tempo crescere e per questo quando ti approcci oggi abbiamo più di 1500 persone siamo in 14 paesi e quindi è piuttosto difficile in queste fasi di crescita mantenere lo stessa dimensione che magari avevamo 15 anni fa quando l'azienda era gestita veramente a livello familiare e allora io ho trovato nel ricorso a quella che è poi la mia cultura che intreccia visione e teoria della complessità non solo scientifica ma anche filosofica e poi organizzativa un metodo per cui si possa provare a far sì a far sì che le persone all'interno di questa organizzazione si muovano innanzitutto avendo ben compreso il significato di quello che si fa quindi la complessità come primo punto è stato quello attraverso i corsi di formazione ricordo che anche il libro nasce da un corso di formazione e chiaramente sul libro si rimane ampi alti ma poi in realtà tutti questi concetti si applicano primo punto condividere con tutte le persone il significato dell'organizzazione perché esistiamo perché siamo qui e qui la società Benefit aiuta perché perché rappresenta in maniera evidente quel passaggio che secondo me è determinante dall'imprenditore illuminato che è comunque una persona a sé all'impresa come istituzione e per questo è fondamentale riportare e quando bene o male anche a tutti i tuoi collaboratori perché e senti importante quello che sto dicendo prima di tutto la Benefit è importante verso l'interno e poi verso l'esterno come qualsiasi percorso sulla vision o la definizione del chi siamo allora serve per definire quel confine culturale perché faccio questo perché la nostra azienda non può esistere se non in quella dimensione cioè che costruisci delle boundaries dei confini e in questo la società Benefit ti aiuta il fatto poi di andare a declinare una logica di Benefit all'interno dell'impresa stessa a noi è tornato diciamo è andato in perfetta sinergia rispetto all'approccio che abbiamo sempre avuto e che se ti metti in una logica di gestione dei sistemi complessi in cui ti trovi a lavorare con persone e quindi hai una complessità appunto che è dovuta all'organizzazione ma anche al tema delle relazioni non fra sistemi biologici puri ma all'interno dei sistemi sociali la Benefit può essere d'aiuto perché mette in evidenza anche gli aspetti qualitativi di quello che si va a fare e questi aspetti qualitativi poi noi li abbiamo declinati e ogni impresa probabilmente lo farà a modo suo in un sistema di valori dai quali si declinano veri e propri comportamenti o si disegnano i sistemi delle competenze ad esempio in modo diverso abbiamo appena creato un ulteriore corso che è il proseguo di questo che si chiama essere manager in aboca sul development management quindi percorsi di crescita sai una volta non c'era questo oggi l'azienda però ne ha bisogno e si è strutturato un sistema delle competenze si è lavorato su cosa significa competenza da una parte quindi l'identificazione delle competenze professionali per i ruoli dall'altra delle competenze comportamentali fortemente legate agli asset valoriali aziendali e quindi è una logica che alla fine riesce a mio avviso a dare un quadro coerente e capace perlomeno questa è la scommessa di orientare le persone proprio nella logica di nuovo della complessità e qui il riferimento chiaramente alla teoria del disturbo significativo di Bateson Capra che cosa significa significa che anche ai manager si abbandona la visione causa-effetto perché non è efficace si lavora in una logica di condizione e conseguenza costruzione dei contesti tutto questo diventa molto pratico io ne potrei parlare per ore cioè delle volte anche di fronte al libro altro sembrano questioni scusami scusami che ti interrompo e qui è il cuore cioè stai parlando di una serie di concetti che andrebbero sviscerati uno per uno è esattamente quello che dicevo all'inizio ad esempio il tema del diciamo del manager o del leader per capirci adesso non facciamo grandi differenziazioni per capirci noi uno dei punti fondamentali è quello di creare le condizioni di contesto di cui parlavi ma qui c'è da parlarne molto ad esempio ti chiedo praticamente che cosa significa per voi per te o per il tuo management creare condizioni di contesto avete creato uno schema di riferimento per questo creare condizioni di contesto hanno dei principi da seguire per questo lo fanno intuitivamente cioè quello che ti chiederebbe una persona che ti vuole come dire fra virgolette uso il termine utilizzare come esempio perché per noi è importante questo dialogo che stiamo facendo e che qualcuno che ci ascolta dica porca della miseria Massimo Mercati o Abboca mi stanno insegnando questo allora noi cosa possiamo prendere come insegnamento come suggestione su creare condizioni di contesto come lo fate allora il primo punto per portare senza voler insegnare nulla ci mancherebbe altro ma portare magari qualche esperienza confrontarsi capire magari altri quello che hanno fatto per me questo punto di creatori di contesto significa innanzitutto lavorare con i nostri manager e non solo con i leader ma anche con è importante anche per chi riceve l'ordine tra virgolette parlando di ordine perché questo è un comando tu hai sempre due punti uno che è un emittente e un ricevente che a sua volta è emittente presso un altro ricevente quindi è un sistema per cui è importante che tutti abbiano ben compreso questo concetto e questo concetto prima di tutto significa definire qual è la tua responsabilità cioè quando sono di fronte a una persona che ha la responsabilità di più persone nel gestirle il principio chiave per cui dice io glielo ho detto lui non l'ha fatto ok e quindi poi tu lo vai a approfondire nell'ambito della delega non so se mi segui se sono abbastanza concreto dice normalmente funziona che io gli ho detto di farlo lui non l'ha fatto lui è il colpevole ecco questa cosa da noi non può esistere nel senso che se viene uno da me e mi dice questa cosa è lui quello che deve andare a casa e non l'altro ora uso termini pesanti ma per significare la praticità del discorso perché tu devi sapere che quando hai detto una cosa quell'altro ne ha capita un'altra per presupposto quindi dovrai tornare dietro dovrai rifare la domanda ad esempio questo nei processi di delega significa chiarire cosa significa la delega che non è ho detto fallo fallo ma è che per delegare tu devi avere dei punti nella tua organizzazione capace di monitorare quel percorso verso l'obiettivo e quindi sei chiamato a tornare sul tuo ordine comando per vedere se l'organizzazione si sta muovendo in quella direzione altro concetto non è tollerabile in questo sistema un giudizio che vada a dire sulla persona al di là salvo quando vado a mettere in discussione delle competenze comportamentali che sono inaccettabili ma per il resto il giudizio non diventa più sulla persona quello è uno stupido quello è ma deve essere sul ruolo che la persona stessa riveste e cercare per le persone che non riescono ad esprimersi in altri ambiti e quindi valutare costantemente lo spostamento e la movimentazione delle persone all'interno dei processi dove possono generare valore non so se sono concrete come cose ma sono tante diciamo se ho capito bene correggimi se sbaglio per esempio i principi che abbiamo tirato fuori da questa piccola da questo piccolo esempio che tu hai portato il primo il primo è se noi vogliamo lavorare bene sulla responsabilità e sulla revoca dobbiamo partire da un presupposto e cioè dal presupposto che siamo in due che non c'è mai il soggetto A che ha ragione sul soggetto B o viceversa ma che ciò che succede è l'effetto di ciò che facciamo entrambi e questo è già un principio di centralità della relazione quindi quello che tu chiami non mi ricordo come ma che noi chiamiamo condizionamento reciproco cioè in qualunque attività siamo condizionati reciprocamente e il secondo invece è un principio di contenuto e relazione io non giudico non vado sulla relazione ma mi fermo sui contenuti cioè dobbiamo discutere sui contenuti quando siamo in azienda e non dare giudizio sulla persona intelligente stupida ecco questi sono due principi molto interessanti quello che capisco è che quindi correggimi sempre anche qui se sbaglio lavorate molto sui presupposti e quindi si fa un tipo di processo formativo di educativo di sviluppo della persona su quelli che sono sì perché Dario questo è essenziale perché subito dopo io adesso stavo a un livello che è diciamo se vuoi verticale in prima battuta cioè nelle relazioni gerarchiche poi c'è un orizzontale che è altrettanto importante ad esempio questo corso di formazione viene svolto quadri che vengono da tutti i reparti aziendali che magari neanche se erano mai conosciuti quindi metti in relazione a livello orizzontale per creare quell'altra sfida enorme che è la capacità delle persone di legge e la creazione di valore al di fuori del proprio ruolo senti è un altro spasso ancora perché il valore oggi soprattutto su un'azienda come la nostra noi siamo molto particolari perché noi andiamo dall'agricoltura fino alla gestione diretta delle farmacie passando attraverso tutte le fasi di ricerca produzione trasformazione tutta interna all'azienda attività culturali quindi è un'enormità di per capire tutti mettere in sinergia tutti questi elementi è proprio la logica delle proprietà emergenti ma io riparto dallo spiegare quello poi però le persone attraverso l'utilizzo di formazione prevalentemente devono arrivare a comprendere che la generazione del valore è frutto della relazione fra tutte le varie aree poi questo si realizza in particolar modo attraverso comitati non so comitato di stabilimento comitato commerciale marketing ok e o staff e o diciamo aggregazioni temporanee per progetti di ambiti diversi dell'azienda ma all'interno dei quali se non ci sono chiari presupposti non si riesce a lavorare nella dinamica che io ritengo più efficace ecco quindi che va di pari passo strumenti organizzativi che io credo sono abbastanza standard ma sui quali si innestano presupposti culturali che cercano di essere più nuovi quindi quando cambia fermati questo è fondamentale allora hai detto una cosa bellissima e cioè questo che molto spesso non si comprende allora gli strumenti organizzativi se ci stiamo capendo possono essere uguali per tantissime aziende ok azienda A azienda B azienda C azienda D il punto non sono gli strumenti organizzativi tu mi stai dicendo ma sono i presupposti culturali che mi permettono di utilizzare questi strumenti organizzativi con una finalità valoriale diversa ho capito bene? e anche una visione di efficacia perché cioè io bisogna stare attenti non è qua che si coltiva il valore perché siamo dei no i filantropi no noi siamo e io sono un imprenditore questa è un'azienda e quindi deve avere le migliori performance possibili e poi la performance venga letta in senso allargato ma rimane un conto economico dove tendenzialmente non si va a massimizzare le marginalità perché nella visione prospettica si ritiene opportuno investire per crescite future ok però va creato valore anche da quel punto di vista no e quindi io penso che questi presupposti e un diverso linguaggio portati all'interno di strumenti organizzativi moderni chiaramente ci devi studiare non è che però possano renderle più efficaci perché se te fai un comitato ma non hai capito un comitato intersettoriale ma non è chiaro che ciò che è importante non è l'output del singolo settore o quantomeno non solo ma come questo impatta sugli altri ma veramente l'hai capito non perché te l'hanno detto un giorno ma tu veramente sai che il valore verrà da quello perché hai interiorizzato quel tipo di concetto insomma oppure quando parliamo cioè è proprio un approccio che cambia poi gli strumenti organizzativi adesso stiamo lavorando per dire per fare un organigramma diverso anche questo rovesciato perché anche questi organigrammi dove te hai il il presidente in cima tutti gli altri sotto e quindi questa gerarchia anche rappresentata così ha poco senso quindi cambieremo l'organigramma sono fattori organizzativi anche se vuoi innovativi però se dentro non c'è un'anima culturale che comprende bene poi rimangono lì anche perché oggi devono essere portati dentro l'organizzazione a più diversi livelli quindi ecco sì sono no ma sei stato chiarissimo Mari vuoi andare tu perché io poi vorrei prima di chiudere fargli una serie di domande magari un po' più specifiche sì io volevo chiedere sempre una cosa apposto dell'essere benefit che è una cosa che avete fatto diciamo in maniera in tempi recenti se non sbaglio Massimo e mi chiedevo come e proprio per questo discorso che tu hai fatto della coerenza interna ed esterna che avete portato avanti che continuate a portare avanti come azienda l'interiorizzazione dei valori e anche dei processi delle modalità quindi valore ma allo stesso tempo mantenere diciamo lo statuto di essere comunque un'azienda che deve portare portare profitto deve portare valore anche in senso economico non solo in senso diciamo di nel senso valoriale diciamo teorico e quindi tutto questo come siete riusciti a portare o se ci siete riusciti o se lo state ancora facendo a fare in modo che le persone interiorizzino anche l'aspetto dell'essere benefit cioè è qualcosa che avete aggiunto o è qualcosa che fa parte comunque di questo processo di interiorizzazione all'interno delle persone all'interno dei comitati e così via diciamo io poi lo scrivo anche nella logica di queste inversioni per me il fatto che ci si debba modificare per diventare benefit o certificare un altro paradosso cioè nel senso che le società per me dovrebbero essere tutte benefit ma in che senso nel senso che se svolgono una funzione economico sociale possono essere società riconosciute all'ordinamento altrimenti non dovrebbero essere per farti capire quanto l'essere benefit uno accetta di dire ok cambio lo statuto perché effettivamente c'è un tema giuridico però è sempre stato nelle nostre corde magari prima non ce lo chiedevamo neanche e la benefit ti aiuta a vedere i tuoi limiti anche la certificazione come B Corp io inizialmente mi proposero nel 2014 insieme a diventare B Corp io rifiutai perché non volevo un'ennesima certificazione che tutte queste cose questi marchi tendono a essere delle nicchie poi nel momento in cui invece è passata la società benefit beh lì c'è un cambio statutario abbiamo accettato di farlo accettato di farlo e in qualche maniera quali sono gli effetti positivi da una parte che anche per un'azienda come la nostra che poi da sempre ha il tema della sostenibilità costitutivamente in quanto agricoltori se vuoi quindi noi sappiamo che se non preserviamo i nostri campi domani non lavoreremo e quindi abbiamo anche una logica temporale diversa nascendo in questo in questo rapporto quindi sempre stati costitutivamente ma nel poi porserlo all'interno dello statuto e altro vedi dove hai i limiti come puoi come puoi migliorare c'è poi un tema di comunicazione verso l'esterno che è quello sul quale forse tutti insieme dovremmo lavorare affinché si comprenda bene che cosa significa questo modello di società benefit proprio lavorando adesso stiamo mi sentite sì sì bene scusate perché mi è andata via la la voce e quindi cercando appunto di lavorare perché si comprenda che il cambiamento delle società benefit in realtà è un cambiamento di paradigma che dovrebbe allargarsi cioè stiamo attenti a non tenerlo in un circuito chiuso e qui alla fine ci si può augurare come un po' sul biologico che ci sia un'inversione e che si torni a dire ok è normale che l'impresa debba svolgere questa funzione in Italia già questo c'è molto no perché sono tante imprese familiari che ce l'hanno avete visto abbiamo visto tutti con il covid ci siamo tutti dati da fare al massimo ora se riuscissimo a fare quel passaggio che dicevo prima e la benefit lo è da imprenditore a impresa beh il sistema italiano potrebbe fare un rischietto passo avanti perché poi il capitalismo familiare italiano presenta dei limiti da questo punto di vista non so se ho risposto Marinella si benissimo e io proprio sulla Mari non so quanto stiamo forse dovremmo provare a chiudere io non c'ho il tempo a me una cosa che interessa ma questa è una mia curiosità il tuo pensiero su questo ed è legato strettamente alle 20 vorrei farti un sacco di domande sui processi di valutazione sull'allineamento tantissime però vorrei dire che te le farò un'altra volta ma una cosa interessante è questa domanda secondo te essere società benefit comporta implicazioni diverse a secondo della dimensione operativa delle società benefit prima domanda e poi te ne faccio un'altra ritieni che ci siano come dire una serie di principi ineludibili per essere benefit perché la mia sensazione io ti dico da dove nasce questa sensazione la mia sensazione è che il rischio che si può correre nelle benefit al di là di un obbligo di tipo giuridico e che anche qui avvenga qualcosa di simile a un greenwashing questo è semplicemente un pericolo un rischio allora voglio sapere tu cosa ne pensi su queste due cose allora sul tema ultimo che dici è un pericolo che è sempre presente ed è purtroppo va di pari passo nel momento in cui tu crei queste nicchie no come sul biologico il biologico stesso no hai visto gli scandali che accadono sul biologico è perché sono dovuti a una logica a cui tu devi andare a creare dei dei cortili diciamo delle aree delle nicchie all'interno delle quali è facile poi infilarsi per pure ragioni di marketing ed è dovuto a un sistema che crea fortemente questo rischio per quello secondo me noi dobbiamo impegnarci per dare corpo ad esempio nell'ambito delle benefit ai poteri dell'autorità garante per il controllo delle relazioni di impatto cioè dovremmo attivare in maniera forte per mantenere preservare il senso di questo concetto per quanto riguarda la logica dei principi ineludibili anche qua la risposta è difficile nel senso che credo tu voglia dire se tutte le società possono diventare benefit o meno e la risposta è naturalmente sì perché quello che cambia è una visione di impresa il problema è riusciamo a capire questo scopo sociale se deve rimanere quello della costituzione cioè il fatto di non nuocere ad altri già lì si sarebbe molto da fare ma non è solo la benefit non so se è proprio la costituzione di una società che dovrebbe essere riapprofondita da quel punto di vista e qui insomma le tematiche non sono da poco così come tutte le tematiche della governance vengono accennate c'è un altro bellissimo libro su questi temi non so se avete letto che è potere e interessi nella grande impresa azionaria di Umberto Tombari cioè i presupposti giuridici qui contano tantissimo allora lì al di là di benefit o non benefit bisogna fare un lavoro importante di presidio giuridico sul tema giuridico e culturale chiaramente ora c'è un vantaggio in più però che i movimenti diciamo di consumo stanno iniziando a spingere verso prodotti che possano rappresentare questa sostenibilità e possono essere i nostri alleati contro il greenwashing per cui la benefit dovrebbe essere trasparente sotto tutti i punti di vista questa è forse la vera chiave perché si ha e si parli di ineludibilità la trasparenza dell'impresa affinché gli utenti possano realmente giudicare dei prodotti che acquistano questo è forse il punto più forte a cui dovremmo guardare sul tema delle dimensioni sicuramente le implicazioni sono diverse lo sono dalle grandi corporation quotate in borsa che non possono affrontare una trasformazione in benefit perché rischiano il recesso dovendo cambiare lo statuto e quindi chiaramente lì abbiamo un punto dell'ordinamento che è critico fino alle piccole saltando tra le medie fino ad arrivare alle piccole realtà che hanno e fatigano a trovare il modo di certificarsi di formarsi per affrontare il mondo delle benefit lì però la soluzione c'è noi l'abbiamo anche già messa in pista qua in Valtiberina ed è una centralità delle società medie come può essere un'aboca nello sviluppo di filiere benefit non so se tu sai che questo lo stiamo costruendo sia dal lato clienti che fornitori nel caso di Apoteca Natura ad esempio la prima noi tutte le nostre società sono benefit Apoteca Natura mille farmacie affiliate con dei corner diciamo franchising che stanno evolvendo verso un full format ma lì noi abbiamo creato una filiera benefit per cui le farmacie che a loro volta vogliono certificarsi trasformarsi benefit o certificarsi possono ricevono da noi dei supporti dei kit collegati a delle attività che queste possono fare dei modelli di rendicontazione che facilitano il loro lavoro e così abbiamo oggi 130-140 farmacie in Italia che sono già in quel percorso ok e anche in Spagna stiamo partendo quindi tu crei una filiera dove al centro c'è l'azienda più grande che supporta e sviluppa e la stessa cosa viene sul lato fornitori noi abbiamo promosso qui in Valtiberina la costituzione di un consorzio che ad esempio è una bella realtà da conoscere anche per Assobeni in effetti si chiama consorzio ecco Vprint sulla stampa qua la Valtiberina era storicamente un distretto importante per la tipografia e la stampa ha avuto una crisi forte dovuta a una competizione di prezzo e noi la logica è va bene mantenere il lavoro nelle nostre zone ma deve avere un valore aggiunto se non può avere competitività pura sul prezzo magari la può avere e la stanno facendo attraverso una filiera certificata per l'impatto ambientale e sono aziende più piccole che si sono consorziate e questa cosa sta avendo successo perché è partita da Aboka oggi tante altre imprese lo hanno vista e si rivolgono a loro perché hanno bisogno ad esempio di controllare gli inchiostri che utilizzano piuttosto che le carte piuttosto che i processi che ci sono dietro e quindi questa è una grande cioè potremmo essere dei motori no? dobbiamo essere dei motori propulsivi in questo senso e la cosa che mi interessa anche qui io ne tiro fuori sempre diciamo un principio ci sta bene il concetto di mercato però modifichiamo le chiavi di accesso e di interpretazione del mercato non è più solo il prezzo che ci crea domanda e offerta ma ce lo incominciano ad andare principi diversi come l'impatto come la qualità delle prestazioni pensa alla trasparenza come indicatore di impatto in un principio di mercato è molto interessante questo perché questo significa rigenerare un concetto di mercato creando una situazione non solo quantitativa ma qualitativa attraverso questi principi quindi questo è molto interessante va bene Mari io continuerò all'infinito quindi direi di lasciarlo perché devo andare a lavorare bisogna anche andare a lavorare ogni tanto giustamente sennò qui questa complessità non va da sola va bene Massimo io ti ringrazio moltissimo è stato veramente piacevole di vederti di ascoltarti e niente speriamo di vederci presto poi parliamo più in là di è Mari del interassimiti sì Massimo grazie grazie davvero per noi è un ottimo inizio questa intervista proprio di perché tu hai dato veramente un quadro ampio cioè non hai parlato solo della tua azienda ma partendo dalla tua azienda veramente hai portato a quella che è un'inversione di ragionamento un'inversione di capovolgimento totale del ragionamento che bisognerebbe fare rispetto a questi nuovi modelli organizzativi quindi secondo me veramente è una traccia di percorso quella che ci offri che io trovo veramente molto molto ricca e interessante per cui grazie grazie a tutti speriamo sia utile non abbandonare non abbandonare l'idea di fare il secondo volume sugli aspetti sugli aspetti sulle pratiche perché secondo me perché secondo me possiamo lavorare perché in realtà ci sono quindi si potrebbe anche anche andarlo a specificare magari per dare più concretezza quindi ti rispetterò va bene? grazie ciao Massimo grazie a voi buona giornata ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti